Ramone pieno, rimanete sul palco, Anna raggiungici, ci date una mano? Noi dobbiamo fare un self per Faisbix, conoscete Faisbix, il gruppo social? Vi pregherei di alzare le mani, così viene una cosa attiva nella foto, facciamo una prova, alzate le mani Voi io dormiamo, ecco così, signorate, alzate le mani, se no andiamo avanti Tu, tu, con te sto a parlare, alzate le mani, se no andiamo avanti Brava, così, a che classe che hai quando alzi le mani? Allora, ci mettiamo anche un urlo, pure che non viene nella foto, però, che ci interessa? Lo facciamo lo stesso Allora, siamo pronti? Guarda che classe che ha acceso le luci, il service politano, vedete com'è attivo, io lo chiamerei per qualsiasi cosa E allora, sulle mani, ragazzi raggiungetemi qui 3, 2, 1 Hai visto una noturrone che... Ah no, la ragazza Grazie mille ragazzi, complimenti per la coreografia, molto forte Lo vogliamo far spogliare a Piero? Vi è i pantaloni, che dite? No, Franca ha detto va bene così Quindi, basta questo spogliamento che... Hai ragione, hai ragione Allora, andiamo avanti